Già ranzo anoche, algo promeco di esor, polis, ambulanze e cambio materiale bajo di Brantwer a bai na altura di cura di airport. A chi non melding adrienta co' apparentemente un auto lo adrienta e che qui d'aeropuerto. La llegata di unidad non di rescate, nada constata co'è sei notavata il caso. Il chauffeur nasture di un Hyundai Gets, po' motivo, non desconosi lo appare il controllo d'emboch. A chi non è la bai pega di un mondi di ubada. Con aiuto di Brantwer, non ha logra trecchi auto e saque. Personal di ambulanze a transporte per l'hospital per mas observazione.